Ciao a tutti, io sono Alessia, io sono Chiara e questo è il Flashmob che si terrà a mezz'agolo 11 giugno alla mattina per i bambini. Vi aspettiamo i numerosi, ci divertiremo un sacco e niente. Ciao! Ciao! Su, apro, 1, 2, giù, giù, di nuovo. Su, su, giù, giù. Qua facciamo battito destro, battito sinistro, destro, sinistro. E di nuovo, su, su, giù, giù, su, su, giù, giù, battito, 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 battito. Da qua? Allora, piano, destra, 1, giù, 1, giù, 1, giù, 1, giù, 1, giù, 1, giù, 3, 4, 5 le mani. poi apro, poi da qui c'è, apro, capo di giro, da l'oppo, uno, due, uno, due, poi la macchetta e poi facciamo fuori, passi e divertitevi, vi aspettiamo e ciao! Grazie!